Il rombo è una tavoletta sibilante, uno strumento molto importante, direi fondamentale dal punto di vista musicologico, in quanto ha un interesse anche antropologico etnografico incredibile. Questa tavoletta di legno a volte è stato ed è anche in osso o anche in metallo o pietra, è una tavoletta che tutte le culture del mondo hanno utilizzato, almeno in passato. L'aspetto molto interessante è che quando è o è stato usato come oggetto rituale, il suo suono è sempre legato allo spirito dei morti, cioè alla voce degli antenati. Grazie a tutti.